Accettare il contributo dei privati per manutenere i beni culturali e architettonici del paese non può essere considerata mercificazione dell'arte. Parola del sottosegretario ai beni culturali Ilaria Borletti-Buitoni, che intervenendo al convegno organizzato dal Centro Servizi del Volontariato Toscano a Firenze, il CESVOT, ha voluto rassicurare in particolare i fiorentini sull'opportunità di rastrellare i soldi di mecenati magari stranieri per restaurare il battistero di Piazza San Giovanni, che versa in condizioni complicate. Io cito spesso il caso dell'Inghilterra, perché è un paese che conosco bene. In Inghilterra i monumenti vengono salvati attraverso una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, in cui naturalmente l'identità del monumento, la sua natura, la sua vocazione, non sono mai intaccate. Questo è il punto fondamentale. Il governo, dal canto suo, oltre ad aver previsto agevolazioni fiscali per i donatori con il decreto Art Bonus, ieri ha dato anche il via libera alla costituzione di un fondo da 100 milioni di euro per la manutenzione ordinaria dei monumenti italiani. Ma questo non basta, soprattutto dopo che negli scorsi anni i fondi a disposizione del MIBACT sono stati ridotti del 40%. E su questo punto un monito è arrivato dai vertici del CESVOT. Noi lanciamo questo messaggio, occhio a dove tagliate. La salute è un bene comune, anche la cultura lo è. Il nostro corpo ha diritto di essere tutelato, la nostra mente e la nostra anima ancora di più. E non si può pensare, conclude il CESVOT, che sia il lavoro delle migliaia di volontari che si occupano di beni culturali a supplire ai tagli statali.